Finalmente ho comprato casa, un bellissimo appartamento. E ti ho detto della macchina nuova, ce la consegnano martedì, due giorni prima di partire. Lo sapevi, Anna? Andiamo in vacanza. Anche voi? No! Su con la vita, vuoi veramente realizzare i tuoi sogni? Scegli un prestito affidabile e trasparente. Con Fijampa è possibile.